Non sono purtroppo per niente buoni i dati relativi al covid relativamente al weekend appena trascorso. La variante Omicron 5, come temevano gli esperti, sta facendo crescere a dismisura i contagi, favorita anche dal pressoché totale abbandono di tutte le restrizioni. Civita Vecchia, che solo due settimane fa stava per scendere sotto i 200 contagiati complessivi, è tornata già sopra la soglia dei 400 soggetti positivi. Ma l'aumento dei casi si riscontra, così come a livello nazionale in tutto il territorio dell'azienda sanitaria Roma 4. Per quanto concerne i report dal 24 al 26 giugno, infatti, si osserva un autentico boom delle nuove positività rispetto ai dati, che iniziavano ad essere già preoccupanti dal weekend precedente. Nella giornata di ieri, a fronte di 26 mila tamponi effettuati nell'intero territorio regionale, nell'Asl Roma 4 si sono avuti 203 nuovi positivi, con un tasso complessivo nettamente in crescita rispetto alla domenica precedente. Ancora più impattante in senso negativo il riscontro riguardo la giornata di sabato scorso, con 31 mila tamponi eseguiti, le nuove positività nell'azienda sanitaria locale sono state infatti ben 313, con un tasso nettamente superiore rispetto a quello che si manifestava un mese fa. Molto alti i dati relativi a venerdì scorso, con 286 nuovi positivi a fronte di 29 mila tamponi effettuati. Complessivamente nei tre giorni osservati sono state certificate in tutta l'azienda sanitaria 802 nuove positività contro le 491 della settimana precedente. C'è stata insomma una crescita del 63% dei contagi a fronte di un aumento del 32% di tamponi effettuati. Anche queste percentuali la dicono lunga su come sia enormemente aumentato il tasso di positività nell'arco di pochissimi giorni. Adesso bisogna vedere se questa risalita del virus che era già iniziata la scorsa settimana sarà momentanea come si spera oppure se, come si teme, sia di fronte a un'ondata che ci porteremo dietro per tutta l'estate.